Ho parlato con Zaid. È un tipo strano. Considerata tutta la violenza e la distruzione a cui ho assistito, sembra piuttosto equilibrato. Tuttavia, non vorrei trovarmi da sola con lui. Ad ogni modo, come va? È tutto. Sarò qui se gli occorre qualcosa. Ho rilevato un'anomalia. Le sonde sono espulsa. Ho trovato qualcosa. A posto. Raccolgo un po' di militari già tu. Raccolgo un po' di militari già tu, raccolgo un po' di suicidio. Nuova arma pesante. Che va ad una esplosiva. Sarà un lanciarazzi, credo, non lo so. Io la svolto, ma non lo userò mai. L'arma a cucchineria è totale. Ok, allora, atterriamo azione. Ok. Ok, allora. Non credo che la nave sia sicura. Ci siamo imbattuti nei gate troppo spesso. Resterò al prossimo sito insieme al dottor Oloi. Li saremo più al sicuro. Sistemi primari online. Benvenuti nel veicolo di fanteria d'assalto M44 Ambered. Sono la vostra EV di bordo. Attenzione, sistema di missili autoguidati attivo. Obiettivi della missione individuati. Acquisito. Vuoi dare un'occhiata? La strada è scombra. Perciò'il lo so. Allora. E' la strada è scombra. Allora. Aga. I donna. Precevuto. 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 Ce l'abbiamo fatta. Obiettivi della missione completati. ... Io sono un coglione. Tutto il video che parlo con il microfono alzato. Il microfono è attaccato alle cuffie. Ce l'avevo verso alto. Comandante ha ricevuto un messaggio sul suo terminale privato. Spero che si sia sentito qualcosa. Complimenti a posto. Direi che ci dirigiamo sul posto della prossima missione. Perché faccio una missione a video. Meglio così che almeno. Magari non è troppo pesante. Riesco a portarvi due episodi in un giorno. Come l'ho già fatto una volta. Anche perché. Anche perché. Devo sbrigarmi. Il pre rilascio di Mass Effect Andromeda è. Il 17 marzo. Se non dico scemenze. E. Io voglio finire il 2 e il 3. Prima. Che sca. Andromeda. Anche perché. Andromeda. Vi porterò le life. Che cazzo sto facendo. Devo andare al portale. A proposito. Portale galattico. Allora abbiamo. Recupera il krogan. Recupera il prigioniero. E ottieni merce di contrabando. Esplora il punto di schianto della norma. Sito del manufattore. Recupero dati. Firewall incursione ghette. Indaga. Sul progetto overload. E facciamo tac 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 tac. Tutto zizzato. Quindi. Nel prossimo episodio. Andremo a recuperare. Il krogan. Speriamo che alla fine. Si avrex. Come. Archangel. In realtà. Era. Garius. Mi giro i pianeti. Così raccolgo le cose. Poi ci salutiamo. Molto bene ragazzi. Spero che questo video. Vi sia piaciuto. Breve ma. A me è piaciuto un sacco. Sta missione. Ripeto. Dove essere di un DLC. Perché io proprio. Non me ne ricordavo. Ci vediamo. Nel prossimo episodio. Ciao ragazzi.